Buon pomeriggio e benvenuti a tutti da parte mia e di CDO Edilizia. Le temperature di questi giorni e la confusione generata dall'eccesso di normative hanno reso particolarmente incandescente il clima nel settore delle costruzioni e pertanto un grazie particolare stasera al nostro relatore, l'ingegner Luca Rollino, che abbiamo già apprezzato in precedenti appuntamenti e che con la sua riconosciuta competenza ci porterà un po' di freschezza e di chiarezza soprattutto sul tema che approfondiamo in questo webinar, super bonus problemi e prospettive. Al termine della presentazione daremo spazio alle vostre domande, quindi vi invito sin da ora a scriverle in chat così l'ingegner Rollino potrà rispondere ad ognuno di voi. Buonasera ingegner Rollino. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate e ovviamente spero che mi vediate bene, insomma, che non ci siano problemi di comunicazione. Tutto perfetto, tutto perfetto. Ottimo, molto bene. Le ha scritto in un recente intervento che l'edilizia ha attraversato una lunghissima crisi, cominciata nel 2008 e terminata nel 2020. È acquisito che il colpo d'ala è venuto proprio dal super bonus al 110%, che ha funzionato da acceleratore economico, convincendo un numero significativo di proprietari immobiliari a cogliere questa straordinaria opportunità dell'incentivo fiscale per ammodernare ed efficientare gli edifici con basse prestazioni energetiche. Non c'è dubbio che il meccanismo sia rivelato decisivo, oltre che per la percentuale sicuramente allettante del bonus, ma in particolar modo è stata la possibilità dell'accessione del credito. L'efficacia della modalità ha portato alcuni anche, abbiamo visto, ad approfittare. Certe maglie erano state lasciate probabilmente troppo larghe su alcuni bonus, cito in particolare il bonus facciate, e altri invece si sono buttati nel settore fiutando un flusso d'affari. È un dato di Ance che stima appunto che sono nate 12.000 imprese nuove con un codice a te collegato al mondo dell'edilizia. E lei stesso ha segnalato che c'è stata anche una moltiplicazione di soggetti che si sono posti come intermediari tra i committenti e le imprese, affollando ancora di più, in modo negativo anche purtroppo alcune volte, il mondo dell'edilizia. Il fenomeno ha suscitato moltissime problematiche. Lo abbiamo visto, hanno raggiunto anche la maggioranza di governo, ponendo problemi addirittura alla stabilità dell'esecutivo Draghi. Abbiamo assistito anche purtroppo a una strumentalizzazione politica del super bonus, rivendicato da alcune parti proprio come una misura da difendere ad oltranza, mentre abbiamo sentito il Premier e il Ministro dell'Economia invece evidenziare appunto una carenza di controlli e l'inopportunità di cedere agevolazioni fiscali così generose a prescindere dal reddito e dal patrimonio del beneficiario. Da questo braccio di ferro abbiamo visto nascere un compromesso, il cosiddetto decreto antifrode, era novembre 2021, e misure di proroga con la legge di stabilità del 2022, che prevede nuove modalità, condizioni diverse, percentuali ridotte da qui fino al 2025. Entrambe le leggi, stabilendo questi nuovi requisiti e soprattutto limitando a tre il numero massimo delle cessioni di credito, di fatto ha bloccato questo meccanismo del super bonus. Anche le recenti modifiche non sono riuscite a rimettere in moto questa macchina e le previsioni sono ancora ad oggi di incertezza. Allora qui le faccio la prima domanda per introdurre il nostro tema, quindi super bonus, problemi e prospettive. La mia è una duplice domanda. Si riuscirà a sottrarre il super bonus dalla strumentalizzazione politica in favore di una visione più tecnica ed economica di questa misura, salvaguardandone quindi gli effetti positivi non solo per l'edilizia ma per tutta l'economia italiana. Per far capire meglio questo meccanismo dell'accessione del credito e sperare perché ha funzionato così bene, lei in un suo interessantissimo commento al super bonus ha usato la metafora delle figurine dell'album del calciatore, mi è piaciuta moltissimo. Il segreto del successo del gioco, ci abbiamo giocato tutti da bambini, è proprio la possibilità di scambiarsi queste figurine. Se viene tolta questa possibilità il gioco si ferma. Quindi quali prospettive immagina nell'ipotesi e si riesca a sbloccare il meccanismo dell'accessione del credito e soprattutto qualora invece non si rimettesse in moto, cosa succede? Dunque, le domande sono veramente complesse, quindi mi devo prendere un po' di spazio per rispondere a tutto. Chiaramente innanzitutto saluto tutti gli amici collegati, colleghi collegati e provo a portare una ventata di ottimismo perché sono una persona ottimista alla fine. La ventata di ottimismo è legata al fatto che secondo me il super bonus non si esaurerà o perlomeno i bonus non si esauriranno con il 2022 o con il 2023. Un motivo è molto semplice, ovvero la predominanza della politica sulla tecnica. Quindi in realtà la politica, come le vicende recenti hanno dimostrato, ha scelto di sposare la causa del super bonus perché è una causa che sicuramente piace a tanti, potrei dire a tutti. È molto facile e sicuramente genera consenso. Non dimentichiamoci che nel 2023 ci saranno le elezioni, non c'è un solo gruppo parlamentare che, mi ho avviso giustamente, ma adesso poi andremo ad approfondire il tutto, non c'è un solo gruppo parlamentare di opposizione di maggioranza che si sia professato contro il super bonus. Non ce n'è uno. Chi si è professato contro il super bonus in modo aperto, secondo me anche sbagliando, ma da un punto di vista prettamente di immagine politica, è stato il governo, nella fattispecie il presidente Draghi e il ministro Franco, i quali hanno criticato gli aspetti negativi del super bonus, che ci sono indubbiamente, però è anche vero che insomma il governo sta criticando quella che è una posizione aperta e chiara del Parlamento. E questa posizione aperta e chiara del Parlamento mi fa pensare che il super bonus potrebbe essere modulato, potrebbe essere cambiato, ma ormai è entrato in modo molto forte all'interno del mercato italiano e difficilmente se ne potrà fare a meno. Adesso cerchiamo di andare ad argomentare, perché altrimenti potrebbe sembrare una sparata e potrebbero sembrare non esserci gli argomenti fondanti di questa mia riflessione, ma in realtà è basata sui numeri, sui fatti. Allora, innanzitutto partiamo dalla prima considerazione. Il super bonus potrà essere sottratto da una strumentalizzazione politica in favore di una visione più tecnica? A mio avviso no. A mio avviso no, in quanto è troppo comodo da un punto di vista politico per poter essere declinato in modo meramente tecnico, ok? Da un punto di vista politico risulta molto semplice utilizzare il super bonus per raccogliere consenso. Da un punto di vista tecnico il super bonus potrebbe essere utilizzato, attenzione, tecnico-ingegneristico, non tecnico-economico-fiscale, perché poi tecnico-economico-fiscale è un'altra storia, ma da un punto di vista tecnico-ingegneristico il super bonus sarebbe molto utile, potrebbe essere utilizzato, ma questo richiederebbe una profonda trasformazione a monte, cioè dei soggetti che fanno le leggi e fanno i decreti ministeriali, quindi ci sarebbe una necessità di competenza tecnica operativa da parte dei vari tecnici ministeriali che fanno i decreti, servirebbe una competenza da parte di chi fa le leggi profonda di quello che è in materia di mercato delle edilizie, mercato immobiliare e ovviamente servirebbe uno stravolgimento di quello che è il sistema immobiliare di edilizio italiano che in questo momento diventa molto complicato mettere in atto. Perché dico questo? Perché immaginate se il super bonus venisse veramente utilizzato, come Simona prima diceva, per portare avanti la transizione energetica. Allora, transizione energetica, quindi abbandono di tutti quelli che sono i sistemi a combustione a favore di sistemi totalmente basati sull'alimentazione elettrica, pompe di calore, sistemi di climatizzazione basati sull'alimentazione elettrica, magari con energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio fotovoltaico, magari un maggior sfruttamento di quelle che sono le fonti energetiche rinnovabili sui piccoli impianti, mini idroelettrico, mini eolico, sistemi di cogenerazione basati sul ciclo completo dei rifiuti. Ci sono tantissime possibilità che sono tra l'altro ampiamente impiegate nel nord Europa, tanto per dire, ci sono dei termovalorizzatori nel nord Europa che bruciano i rifiuti in centro città, famoso ma più che altro perché è stato fatto con tecnologia italiana e il termovalorizzatore di Copenaghen, quello dove hanno poi realizzato una pista da sci sulla copertura, quello è stato realizzato con tecnologia italiana, cioè tra le altre ci sono ditti italiane che hanno contribuito a realizzare questo impianto. Questo per dire che cosa? Che molto spesso i decreti ministeriali attuativi, quindi le leggi, i decreti ministeriali attuativi sono scritti molto male. Quindi per dare una visione e una funzione meramente tecnica a quello che è uno strumento fiscale, economico fiscale, bisognerebbe avere una struttura legislativa, tecnica, competente e tutto quello che è successo nel mondo, nel discorso super bonus, piuttosto cessione di credito, piuttosto che decreti attuativi, ci dimostra che così non è. Cioè noi non abbiamo all'interno dei nostri ministeri, probabilmente non abbiamo neanche all'interno del Parlamento, ma insomma secondo me è più grave all'interno dei ministeri perché sono poi le figure tecniche preposte a fare le leggi fisicamente, fare i decreti attuativi e non abbiamo figure in grado di descriverle bene. Nei tempi, in tempi certi, che siano effettivamente, come dire, attuabili. E questo è il primo aspetto. Quindi secondo me sarà sempre strumentalizzato da un punto di vista meramente politico. Se si volesse, la butto lì, visto che siamo tutti operatori del settore, se si volesse utilizzare con una funzione tecnica a quel punto bisognerebbe cambiare le carte in tavola. Ovvero, voi conoscete tutti a memoria, quindi non sto a tornarci, quelle che sono le logiche di incentivazione del super bonus. Però sono state incentivate tecnologie profondamente differenti da un punto di vista politico, cioè incentivare la caldaia condensazione, anzi più che politico strategico, incentivare la caldaia condensazione basata su un sistema a combustione è diverso che incentivare una pompa di calore, così come è diverso andare a incentivare un sistema a pannelli solari, così come è diverso andare a incentivare un sistema a biomassa. Cioè sono tecnologie che servono tutte per fare caldo, per produrre qualcosa di caldo, ma in modi totalmente diversi e soprattutto sono state incentivate a pioggia, cioè in modo assolutamente indiscriminato. Incentivare un sistema a biomassa in una città, fermo restando che magari ci sono dei regolamenti urbani che ti impediscono di utilizzarla, ma incentivarlo in città è diverso che incentivarlo in campagna, è diverso incentivarlo in montagna. Cioè quello che voglio dire è che le leggi dovrebbero essere scritte in modo molto più contestualizzato, anche con il rischio di escludere una larga parte, una buona parte degli edifici esistenti, ma ovviamente con una focalizzazione ben precisa. Oggi con un collega stavamo riflettendo se dal 2024 il super bonus venisse elargito al 110% soltanto nel caso in cui ci fossero degli edifici totalmente alimentati da, o alimentati per almeno 70% da fonte energetica rinnovabile. Il che significa, ma non fonte energetica rinnovabile, biomassa, perché poi ci sono anche questi sotterfugi. Fonte energetica rinnovabile, pannelli fotovoltaici, mini idroelettrico, mini eolico o altro, la biomassa soltanto in quei contesti in cui non ci sono altri sistemi di approvvigionamento. Stavamo ragionando così ad alta voce, ma capite che è ben diverso dire che ti do il 110% se fai il duplice salto di classe. E come fai a fare il duplice salto di classe? Metti una stufa a legna, metti un po' di isolamento e ho risolto il problema, perché poi il modello di calcolo ci dice questo. Se qualcuno ha provato a smanettare per vedere come si può fare per raggiungere il duplice salto di classe, si scopre che avendo legato il tutto al duplice salto di classe, chi è un po' bravino nel giocare con i numeri, con i modelli matematici, riesce tranquillamente a raggiungere il risultato del duplice salto senza fare effettiva efficienza energetica. Quindi, secondo me, servirebbe proprio un cambio di mentalità, a partire da chi fa le leggi. In secondo luogo, evidentemente, serve proprio un cambio di volontà, no? Nel senso, il Superbonus funziona bene al 110%, perché quanto dice Draghi è vero, però il Superbonus funziona bene al 110%, ma per premiare l'eccellenza. Voi pensate, normalmente parliamo sempre di Super Ecobonus, ma pensate Super Sismabonus. Per raggiungere l'85% un tempo bisognava fare il duplice salto di classe di rischio sismico. Adesso per fare il 110% in ambito sismico non serve neanche più fare un semplice salto di classe di rischio sismico. Quindi, alla fine, quello che prima era premiante adesso non lo è più. Ora, utilizziamo un'aliquota estremamente premiante per valorizzare l'eccellenza e a questo punto sicuramente tutto quello che si dovrà fare richiederà competenza, esperienza, capacità e si eviterebbe quel proliferare di 12.000 imprese connesse al mondo dell'edilizia che, se dovesse mai essere inserita a passare definitivamente la richiesta di SOA, oltre 516.000 euro di appalto per quanto riguarda il mondo del Super Bonus, di queste 12.000 aziende nel settore dell'edilizia probabilmente il 95% scomparirebbe perché non sono nient'altro che, come dire, scatole vuote che hanno cercato di inserirsi in questo momento euforico per l'edilizia e a tutti gli effetti non hanno sostanza alle spalle. Ecco, questo dimostra come l'eccesso normativo sia stato un eccesso negativo perché è stato fatto sempre rincorrendo una legge che dall'inizio è stata scritta male. Poi il 110%, perché se c'è stato un eccesso normativo, scusa finisco il pensiero, è stata modificata costantemente la legge, sono stati fatti decreti, contro decreti, aggiustamenti, contro aggiustamenti, ma questo dimostra essenzialmente che la legge inizialmente è stata scritta male, nel DL34 è stato scritto male e questo l'ho detto dal primo momento quando il DL34 è comparso. In seconda battuta i vari decreti attuativi sono stati scritti in modo non così chiaro come sarebbe stato necessario e tra le altre cose non sono stati presi in considerazione molti aspetti, tra cui anche la tendenza a fare i furbi di una parte, non di tutti, una parte del mercato italiano, degli attori italiani che sono coinvolti nel settore. Il fatto di aver messo l'asseverazione, visto le conformità, solo al 110% non me lo sono mai spiegato, perché le aliquote più basse che arrivavano fino al 90% non richiedevano questo aspetto burocratico sin dall'inizio. Obiettivamente avessero messo, visto asseverazione, visto le conformità, come poi hanno messo dopo, in corso d'opera, da subito, su tutta l'altra fila della cessione del credito, molto probabilmente quelle che sono state le truffe che sono verificate, perché si sono verificate, non ci sarebbero state. Perché, ad esempio, questo non lo dice mai nessuno, casse, depositi e prestiti, quando comprava il credito, poste italiane comprava il credito senza chiedere nulla e se qualcuno ha fatto questa prova se ne sarà reso conto. Casse, depositi e prestiti, quando comprava il credito, vincolava, faceva scegliere al venditore del credito, l'advisor, che dicesse sì o no all'acquisto del credito da parte di casse, depositi e prestiti e l'advisor era pagato soltanto se il credito veniva ceduto. Quindi, di fatto, il controllore veniva scelto dal controllato e il controllore era pagato soltanto se il controllato vendeva. Questo non ha senso, portate pazienza, non ha senso. Poi ti raccontano che hai avuto, ci sono stati 4,2 miliardi di euro di truffa, che poi in realtà sono crediti sospetti. In alcuni casi è truffa, in altri casi sono solo crediti sospetti. Ma si dimenticano tutti di dire che il 3% è soltanto connesso al super bonus. Ma perché? Perché il super bonus aveva asseverazione vista di conformità. Quindi un duplice controllo da parte di soggetti professionali, tecnici prima, fiscali poi, che in qualche modo servivano come controllori di quello che era un meccanismo, a mio avviso, virtuoso, che è quello della cessione del credito. Perché il meccanismo della cessione del credito è un meccanismo virtuoso? Perché a tutti gli effetti evita alle famiglie un esborso, un'uscita di cassa e soprattutto evita di dover andare a portare in detrazione negli anni a venire quando non si ha la certezza di avere delle imposte sufficienti per sfruttare fino in fondo la detrazione. Quindi nei fatti la cessione del credito aiuta tantissimo perché è un invariante per lo Stato, a meno che non ci vengano a dire che lo Stato contava molto su spese fatte da soggetti senza capienza fiscale che poi sulla carta avrebbero potuto detrarre, ma negli anni a venire non detrarranno mai, oppure conta sul fatto che io oggi sostengo la spesa e poi tra un anno passo a miglior vita e quindi non posso sfruttare fino in fondo la detrazione. Allora, se lo Stato si basava su questi presupposti, evidentemente qualcosa non funziona. Se invece lo Stato ha fatto i conti giusti, evidentemente il fatto che io detragga o ceda il credito e faccia detrarre una banca, tanto per dire intesa San Paolo, cambia poco obiettivamente ai fini del bilancio dello Stato, ma cambia molto ai fini di quelle che sono le entrate dello Stato, perché abbiamo fatto qualche conteggio e se volete lo rifacciamo insieme, i bonus funzionano. Funzionano perché se tu dai delle aliquote di detrazione, concessione del credito inferiori al 70%, di fatto è conveniente far passare tutto attraverso quella che si chiama Black Economy, i pagamenti dei fornitori. Se invece tu poni delle aliquote di detrazione dal 70% in su, diventa conveniente sia per il committente, concessione del credito evidentemente, sia per il committente, sia per il fornitore, che fattura tutto e a questo punto paga le tasse su quello che ha pagato, verso l'IVA e tra le altre cose è un vantaggio anche per lo Stato, perché incassa tasse e IVA. Quindi se si fanno due ragionamenti, si scopre che in realtà i bonus sono utili e sono veramente uno strumento per il rilancio del mondo dell'edilizia e per pulire il mondo dell'edilizia, che purtroppo è afflitto da problematiche legate a economia sommersa, per pulire tutto questo mondo di quelle che sono le criticità di evasione e di illusione. Poi è ovvio che quando fai una legge, ancora nel 2019, con il bonus facciate, dove non poni un limite alla spesa massima detraibile, non poni un limite alle spese detraibili, non poni alcun limite e non poni nessun vincolo, nell'attimo stesso in cui fai passare tutto questo con l'accessione del credito, le iene si scatenano, ma non le iene quelle da televisione, le iene quelle che hanno fame di soldi e trovano tutti gli agganci pur di poter, con atteggiamenti delinquenziali, come dire, fare denaro facile. Ok? Quindi, in realtà, come vedo i bonus? Io penso che con visione politica e con un po' di strumentalizzazione politica, i bonus saranno sempre comunque prorogati. Non basta però prorogarli, a mio avviso bisogna renderli strutturali, perché con le proroghe di anno in anno si fa poco. Bisognerebbe avere la certezza che certi investimenti possono essere fatti con i bonus e tra l'altro rendere strutturali, a mio avviso, ma questa è un'opinione, evita la corsa all'intervento che si è verificata adesso e che ha generato una fortissima inflazione nei prezzi degli elementi edilizi e degli elementi impiantistici, evidentemente. Cioè, i prezzi sono saliti perché, sì, c'è una guerra in atto, sì, siamo usciti da una pandemia, ma poi è chiaro che in questo momento la domanda è altissima e l'offerta è quella che c'era sostanzialmente tre anni fa, quando si faceva fatica a far partire un cantiere. Adesso ci sono cantieri nelle città ogni 100 metri, in grosso modo, mediamente, e di conseguenza è chiaro che l'inflazione ha fatto, come dire, perdere marginalità le imprese e sta galoppando, è un dato di fatto quotidiano. Quindi, se noi sapessimo che il bonus non al 110, evidentemente, o meglio, 110 sì, ma solo per l'eccellenza. Pensate che bella un edificio di 7, 8, 9 piani, totalmente elettrico, totalmente alimentato al 70% con fonte energetica rinnovabile, e al restante 30% con energia elettrica, magari energia verde. L'eccellenza, se vogliamo. Ecco, quindi ha impatto zero dal punto di vista delle emissioni sulla città. 110 per quello, aliquote più contenute per tutto il resto, tra l'altro aliquote più contenute implicano un po' di, come dire, challenge di mercato, quindi alla fine c'è comunque la volontà di fare economia, si obbligano i fornitori a ridurre i prezzi, ridurre le offerte economiche, quindi c'è sicuramente economia di mercato e funziona perfettamente per lo Stato. Quindi, secondo me, i bonus dovrebbero essere resi strutturali e dovrebbero essere resi strutturali con una legislazione più semplice, chiara, come sempre, poche idee, chiare, scritte nella pietra, immutabili. Cioè, cambiare costantemente quella che è l'impostazione legislativa e normativa non aiuta nessuno. Non aiuta gli imprenditori, non aiuta gli attori del settore che evidentemente di volta in volta vedono cambiare le regole in gioco, non aiuta il committente, che sia privato o pubblico, perché non capisce mai se conviene o non conviene, lo faccio o non lo faccio, non aiuta il mercato, non aiuta neanche lo Stato, perché in questo momento noi stiamo subendo un rallentamento di quella che è l'economia, è ovvio che non si può dire che sia soltanto causa dei rallentamenti, dei cantieri del super bonus, ma io dico sempre che l'economia italiana risente tantissimo dell'edilizia, del settore dell'edilizia. Quando il settore dell'edilizia sta bene, l'economia tira. Quando il settore dell'edilizia tossisce, l'economia fa fatica. Quando il settore dell'edilizia rallenta, l'economia rallenta. E lo stiamo vedendo. Uno potrebbe dire e perché succede questo? E beh, perché nuovamente leggi fatte male, nel senso, a mio avviso, e poi ovviamente un parere personalissimo, leggi fatte male perché il super bonus che stava funzionando aveva sicuramente dei grossi problemi, ma hanno fatto delle leggi per correggerlo che lo hanno praticamente bloccato. Le voci di corridoio dicono che lo abbiano fatto per evitare un rallentamento del PNRR. Può darsi, ma tutti gli effetti del PNRR, a parte per le grandi opere, non sta funzionando. Qualcuno dice, sì, perché c'è l'inflazione legata ai prezzi di edilizia dettati dal super bonus. Può darsi, sicuramente sarà una delle cause, ma dal mio punto di vista è che il PNRR si basa su una richiesta di progettualità che viene affidata a degli enti che non sono in grado di erogarla. Cioè, il PNRR ha puntato tantissimo su enti pubblici piccoli, piccolissimi, o in regioni a, diciamo, con grosse difficoltà, e questi enti non sono in grado di presentare quei progetti che possono portare all'erogazione dei fondi PNRR. Cioè, in pratica, se vedete, il PNRR sta funzionando benissimo quando l'ente appaltante ha una fortissima capacità progettuale. Stiamo parlando di grandi infrastrutture, stiamo parlando di grandi lavori, stiamo parlando di opere fatte dalle città metropolitane. Quando invece si è demandato tutto al piccolo borgo, al piccolo paese, al comune, al piccolo ente, magari anche in regioni dove c'è una grossa difficoltà dal punto di vista dell'ente pubblico, penso soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, il PNRR non è decollato. Perché? Perché non sono stati in grado fisicamente di proporre un progetto strutturato in grado di essere finanziato. Noi abbiamo partecipato a dei bandi PNRR e vi posso garantire che presentare un progetto per intercettare il finanziamento PNRR non è fare un bando qualsiasi. Molto spesso si era abituati ad avere un ente pubblico che diceva fammi un progetto, lo presentiamo per il finanziamento e poi si vedeva come si andava a finire. Qui non funziona così, deve essere un progetto praticamente definitivo, quasi esecutivo, deve essere un progetto strutturato bene con tutti i razionali tecnico-economici a posto e non tutti gli enti hanno all'interno le competenze per e non hanno neanche magari budget per incaricare dei soggetti per farlo. Quindi il PNRR ha puntato su realtà piccole che molto spesso non erano in grado di far fronte alla proposta che arrivava dallo Stato. Mentre il Superbonus con tutte le difficoltà ha comunque macinato molto bene. Ma perché? Perché l'economia di mercato in ambito privato si è subito come dire assestata su valori alti per carità ma con proposte se vogliamo anche aggressive da un punto di vista commerciale. ci sono stati general contractor serissimi che dicevano ti faccio l'analisi ti propongo il progetto non mi paghi nulla però se decidi di andare avanti dai avanti insieme a me ti faccio lo sconto in fattura e sono io il tuo unico fornitore non ti azzardare a fare delle gare perché la cosa non mi interessa. Giusto o sbagliato che sia però questo ha creato una serie di cantieri molto numerosa che comunque ha fatto rialzare la testa al settore dell'edilizia. Poi ripeto ci sono state strutture poteva essere scritto meglio non è stata fatta con diciamo una profondità strategica sufficiente perché secondo me si poteva lavorare molto meglio per incentivare la transizione energetica attraverso il super bonus però di sicuro è stato un passo in avanti. togliere il super bonus in questo momento all'edilizia è follia quello che perché non è ancora pronta non è ancora pronto il settore dell'edilizia a come dire ripartire senza super bonus servirà comunque un decarage e infatti è previsto nel 2024 2025 fare quello che è stato fatto di tagliare prima le cessioni del credito poi riaprirle poi riaprirle ai privati correntisti presso un istituto di credito poi adesso si sta parlando di dare la possibilità di cedere il credito anche a un correntista non dopo la terza cessione ma già dopo la prima cessione ecco fare tutti questi passaggi non ha fatto altro che creare grandissima confusione creare grandissima confusione vuol dire a tutti gli effetti creare incertezze creare incertezze lo sappiamo tutti è la condizione peggiore per tutti gli imprenditori adesso ci sono molti imprenditori che hanno investito in modo onesto in modo serio sulla propria azienda per portare avanti i cantieri super bonus e si trovano bloccati perché le banche non comprano più credito o meglio non comprano più credito fino a quando non si repriranno le condizioni tali per cui si potrà comprarla in tutta tranquillità quindi con regole certe fino a fine 2024 quando è stato ehm fino quando è stato diciamo prorogato la cessione del credito in questo momento ci ritroviamo con dei dei cantieri che sono bloccati per mancanza di materiali c'è stata una proroga del 30 fino al 30 settembre per quanto riguarda le villette ma secondo me la proroga bisognava darla a 360 gradi ci ritroviamo con una legge che è stata restritta n volte tale per cui le case popolari che dovevano finire dopo gli edifici privati adesso finiscono sei mesi prima quindi tutto questo ha creato un gran casino scusate del francesismo e in tutto questo pasticcio sicuramente chi ci rimette sono le persone oneste che hanno investito e che volevano far crescere la propria azienda utilizzando l'acceleratore del super bonus per poi magari spostarsi sul PNRR per poi magari aggredire anche i mercati non soltanto italiani ma i mercati stranieri questo sta congelando tutto ma questa obiettivamente è folia stiamo assistendo a un braccio di ferro questo è tra governo Parlamento e ABI no? Cioè anche le banche obiettivamente gli è stato detto potete comprare tutto no? Poi non non potete più comprare poi a un certo punto è stato detto che sarebbero ci poteva essere una responsabilità solidale non so se vi ricordate era uscita una frase di questo genere poi a quel punto lì tutto di nuovamente bloccato quella responsabilità solidale è stata eliminata serve servono poche idee ma servono chiare e costanti nel tempo continuare di questo passo non fa altro che male a tutto il sistema non soltanto al discorso del super bonus e poi chiaramente servono regole chiare ma non costantemente cioè le regole non devono essere affidate agli interpelli delle agenzie delle entrate piuttosto che alle circolari dell'Enea piuttosto che alle fac dell'Enea piuttosto che alle fac del MIT piuttosto che alle fac del MISE non esiste cioè un paese civile ha un documento che racconta tutte quelle che sono le regole sono regole molto semplici facilmente applicabili e poi la difficoltà è tradurle in pratica sui cantieri qui la difficoltà è capire come adeguarsi a quelle che sono le continue richieste di agenzia dell'entrata dell'Enea e in un caso la superficie isolante nell'altro caso superficie isolata verso l'esterno e nell'altro caso deve esserci una zona non riscaldata nell'altro caso può esserci una zona non riscaldata ma si sono determinate condizioni follia eccezione delle eccezioni delle eccezioni delle eccezioni non può funzionare le regole devono essere condensate in un unico documento ingegnere le chiedo scusi le chiedo proprio un approfondimento su questo tema che lei sta trattando la ringrazio moltissimo proprio per questo tema dell'eccesso di normative di cui sta parlando così in modo aperto e trasparente le chiedo appunto un commento allora ironicamente possiamo definirlo eccesso di normative nel settore delle costruzioni possiamo dire più in generale anche nel nostro paese le cito tre dati perché mi sono balzati all'occhio insomma dalla legge Merloni 1994 a luglio 2020 500 provvedimenti sui lavori pubblici circa due al mese mentre sul decreto sblocca cantieri siamo all'aprile 2019 ad oggi si contano 100 provvedimenti qui siamo circa tre al mese infine dal decreto sostenibis del maggio 2021 ad oggi si registrano 20 provvedimenti lei ha citato più volte l'ha anche ampliata alle circolari dell'agenzia delle entrate che ormai non si citano più che vanno appunto a interpretare tutti questi provvedimenti e non le sembra che insomma qualcuno sta un po' forse esagerando hanno iniziato ad esagerare tempo dietro nel senso che è da tanto tempo che stanno esagerando allora i provvedimenti in ambito lavori pubblici sono innumerevoli peraltro chi fa diciamo chi si occupa di lavori pubblici sa bene che difficilmente questi provvedimenti possono essere applicati to cure nell'ambito dei lavori privati però se notate il super bonus è stato costruito per il mercato privato facendo riferimento al mondo dei lavori pubblici quindi già questo vi dice quella che è la competenza dei tecnici ministeriali cioè prendere un decreto tariffe parlo per quanto riguarda i professionisti tecnici che viene utilizzato nell'ambito dei lavori pubblici e ribaltarlo nell'ambito dei lavori privati non funziona perché ci sono voci nel mondo dei lavori privati che non ci sono nel mondo dei lavori pubblici e viceversa quindi di questo indica proprio la pochezza di chi fa le leggi peraltro se andiamo a vedere il caso specifico del mondo del super bonus allora noi ci troviamo in questa condizione DL34 esce nel maggio 2020 dopodiché in sede di conversione viene modificato dopodiché ci si rende conto che non funziona e viene ulteriormente modificato poi nell'ottobre 2020 escono i decreti requisiti ecobonus e il decreto relazioni tecniche asseverazioni tecniche chiedo scusa poi con leggi di stabilità per il 2021 viene ulteriormente modificato poi viene nuovamente modificato nel 2021 poi nel novembre 2021 esce il decreto antifrode tra l'altro gestito malissimo perché esce sulla scorta di alcuni scoop televisivi che poi in realtà non rivelavano nulla nel senso che raccontavano una realtà marcia che era effettivamente marcia ma si poteva intervenire in modo meno drastico l'E.L. antifrode di fatto ha bloccato per un mese e mezzo la cessione dei crediti perché ora che tutti capissero come cosa si doveva fare intanto i cantieri hanno rallentato poi l'E.L. antifrode non è stato neanche convertito in legge ma è stato inserito to cure all'interno della legge di stabilità per il 2022 nel febbraio 2022 hanno interrotto la cessione del credito limitandola a una poi si sono resi conto che questo era un suicidio collettivo hanno riaperto a tre cessioni mentre è uscito il decreto mite il decreto mite ho avuto modo di vederlo in tutte le sue versioni fino a quella definitiva inizialmente portavano dei valori ridicoli ridicoli per quanto riguarda i costi massimi comprensivi di IVA spese tecniche e opere provvisionali tipo che le 180 euro a metro quadro per il cappotto attualmente presenti sul decreto mite erano comprensive di tutto erano omnicomprensive ed è ben diverso dire che è solo il costo dei materiali ma tutto questo vuol dire che da gennaio ad aprile 2022 si è creato un clima di profonda incertezza alimentata peraltro dalle continue interpretazioni date dall'agenzia delle entrate tramite gli interpelli in alcuni casi di chiarimento ma in molti altri casi di confusione anche perché poi chiaramente cosa succede che l'interpello non ha valore legislativo ma ti dice come la vede l'agenzia delle entrate gli interpelli più famosi sono quelli usciti già nel 2007 in cui si legavano le possibilità delle detrazioni per gli immobili non strumentali salvo poi che nel 2019 la Cassazione ha detto che questo non è vero e quindi l'eco bonus può essere applicato così come il sisma bonus può essere applicato ad immobili strumentali immobili merci immobili patrimonio per le imprese evidentemente questo per dire che ogni interpello che esce a tutti gli effetti non fa altro che aumentare l'entropia perché poi si va a leggere la sfumatura della virgola di quant'altro ecco secondo me poi ripeto la bravura sta anche nel leggere questi interpelli interpretarli applicarli la bravura degli attori perché altrimenti saremo tutti uguali ma secondo me non affidare il tutto all'interpretazione dell'agenzia delle entrate ma rendere delle leggi molto più chiare molto più comprensibili se volete anche meno a maglie larghe potrebbero essere anche leggi molto più a maglie strette ma realizzare leggi di questo genere secondo me aiuterebbe tutti tutti nel settore compreso lo Stato italiano vi faccio soltanto un esempio per raccontarvi quello che secondo me è l'eccesso di interpelli allora noi sappiamo che il super bonus si può applicare sulle residenziali adesso senza non voglio scendere troppo nel dettaglio sulle billettoni familiari residenziali ma se tu demolisci e ricostruisci un box e lo fai diventare alla fine residenziale tu puoi applicare il super bonus ma questo chi è che te lo dice? la circolare dell'agenzia delle entrate e perché te lo dice la circolare dell'agenzia delle entrate? perché c'è un interpello che dice questo sì ma la legge dice un'altra cosa scusate cioè se questo era lo scopo ditemelo ok quindi bastava mettere fare una legge in cui si diceva si può applicare alle villette unifamiliari con distinzione d'uso residenziale o a quelli che saranno i progetti che portano a un edificio di questo genere ditemelo ma allora a questo punto mi verrebbe da dire perché con la stessa razza se io prendo un cappannone industriale lo demolisco e faccio un condominio a prevalenza residenziale non posso applicare il super bonus punto di interrogativo perché non si può no? giustamente ovviamente la risposta sarebbe no ma capite che se si lascia tutto all'interpretazione peraltro dell'agenzia delle entrate che non fa legge non ha potere legislativo e peraltro più volte i suoi interpelli sono stati diciamo ribaltati arrivati in Cassazione quindi voglio dire stiamo parlando veramente di tanta tanta confusione dal mio punto di vista l'eccesso normativo si risolve facendo un testo unico con tutte quelle che sono le regole per quanto riguarda la cessione dei crediti è un documento che forse ne abbiamo addirittura parlato in alcune alcuni precedenti incontri della CDO e di fatto vedrebbe tutti d'accordo perché sarebbe estremamente trasparente estremamente pratico estremamente semplice e darebbe la possibilità veramente a tutti di avere un riferimento unico chiamiamolo un testo unico delle detrazioni fiscali chiamiamolo un testo unico sull'efficienza energetica incentivata chiamiamolo come vogliamo ma purché sia quella la regola del gioco non sia costantemente modificabile altrimenti nessuno investirà più tanto più che gli stranieri raramente vengono ad investire in Italia perché hanno paura di questi grandi e continui cambiamenti da un punto di vista legislativo e normativo grazie mille ingegnere le faccio un'altra domanda intanto invito tutti i presenti a scrivere le domande per l'ingegnere Rollino in chat così dopo potremo leggerle insieme l'ingegnere le leggerà e tenterà di rispondere ad ognuno di noi lei l'ha già citato insomma già prima dell'emergenza guerra le nostre imprese erano molto sotto pressione ci sono da una parte gli aumenti dei prezzi energetici dall'altra gli aumenti dei prezzi delle materie prime questo fenomeno combinato a un tasso di inflazione sempre più preoccupante può condizionare il settore delle costruzioni e anche tutta l'economia italiana a mio avviso assolutamente sì lo sta già influenzando pesantemente così per sfizio ho provato a guardare girando per le varie città quanti interventi fossero di riqualificazione dell'esistente quanti fossero di nuova costruzione lasciando perdere che una nuova costruzione quindi demolizione di ricostruzione sostituzione di rigenerazione urbana è più complesso richiede strumenti molto più strumenti amministrativi più pesanti rispetto alla semplice CILAS super bonus però che cosa sta succedendo che se io sono uno sviluppatore se io sono un imprenditore nel settore di ILE che deve demolire ricostruire e vendere o iscrivere patrimonio non lo faccio adesso non lo faccio adesso perché non mi conviene perché adesso il prezzo di vendita sul mercato è leggermente cresciuto forse più 5% sul mercato di Milano ok ma in generale 2-3% al massimo ma il prezzo di costruzione non dico che sia raddoppiato perché c'è sì ma un più 20% in alcuni casi l'ha fatto più 40% sul vetro l'abbiamo visto quindi in realtà vendolo alla stessa cifra o poco più dell'anno scorso ma mi ritrovo dei costi di realizzazione che sono il 40% di più ora siccome tutti noi siamo imprenditori e non siamo benefattori o meglio siamo benefattori ma basandoci su quello che è un ricavo un costo e alla fine un margine per la nostra azienda e non è un momento di fare questo genere di interventi così come non è un momento di affrontare bandi pubblici dove di fatto ho i costi dei materiali che sono molto più alti di quanto previsto sui stessi preziari tanto più che adesso si sta cercando in tutti i modi di porre un rimedio a questo problema ma sono notizie degli ultimi giorni decreti per adeguamento prezzi cioè il tema è in questo momento l'inflazione generata dal super bonus e non solo perché non è solo il super bonus ma l'inflazione generata dal super bonus sta creando in questo momento un danno a tutto ciò che non è riqualificazione dell'esistente compresi di appalti pubblici ora c'è una soluzione evidentemente sì se io sapessi che posso utilizzare il 110% da qui ai prossimi dieci anni chiaramente non ho la corsa al polistirene o alla stifferite che c'è adesso non ho la corsa alla caldaia alla pompa di calore ma pianifico gli interventi e quindi il mercato si dovrebbe sgonfiare ovviamente se ho la certezza che questo c'è contemporaneamente se avessero dato da subito da subito una profondità maggiore ricordiamoci che il DL34 diceva 2020 2021 se avessero dato da subito la profondità fino al 2024 non ci sarebbe stato questo incremento dei prezzi immediato questo boom del mercato perché cosa è successo tutti hanno reagito del tipo ho solo un anno e mezzo devo correre devo correre devo correre sicuramente in questo momento non sta facendo bene per tutto quello che non è riqualificazione dell'esistente però è anche vero che sta dando la possibilità all'impresa di ripartire e strutturarsi strutturarsi pesantemente però diciamo di per contro ci devono essere delle regole certe perché le imprese si strutturano se ci sono delle condizioni di fiducia nel futuro affinché queste ci siano non devono cambiare costantemente le carte in tavola e le regole del gioco quindi secondo me in questo momento è un momento di difficoltà per le imprese generate da un boom da una bolla che è stata erroneamente creata da chi invece doveva creare dare un'accelerazione al sistema ma non creare una spinta effettiva così forte poi ci sono stati dei contesti macroeconomici che hanno in qualche modo come dire alimentato peraltro c'è da dire altri due aspetti macroeconomici che secondo me hanno influenzato ovvero il primo noi arriviamo noi attori del settore edilizio immobiliare arriviamo da anni di difficoltà dove comunque abbiamo dovuto alleggerire la struttura delle nostre aziende quindi di fatto ripartire a fronte eravamo abituati ad una domanda molto più bassa che poteva essere affrontato con strutture molto più leggere molto più snelle adesso la domanda è alzata tantissimo servono strutture più pesanti ma ricostruire una struttura richiede tempo altro aspetto macroeconomico il lockdown ormai questo dovrebbe essere superato ma il lockdown cosa ha fatto almeno io ho visto tantissimi produttori che hanno svuotato i magazzini quando l'edilizia è ripartita i produttori di materiali di componentistica hanno svuotato i magazzini prima di far ripartire la produzione per perenne motivi difficoltà lavorative difficoltà economiche perenne motivi e questo ha fatto sì che adesso di fatto non ci sia più magazzino cioè quelli che erano magazzini molto grossi adesso non ci siano più no? e quindi si lavora sempre sul make to buy sostanzialmente faccio per vendere e questo ovviamente crea notevoli casini perché una linea produttiva di questo genere è una linea produttiva che funziona bene solo se perfettamente organizzata è una sorta di produzione lean se vogliamo ma soltanto le aziende veramente ben strutturate riescono a far fronte a una diciamo una richiesta di questo genere una struttura di questo genere diciamo che in questo momento le imprese del settore dire che sono gli utilizzatori dei prodotti perché fanno ovviamente la posa in opera e prendono gli appalti a corpo o misura che dir si voglia ma sono in difficoltà perché pur di ottenere il materiale devono lasciare dei punti percentuali di marginalità perché altrimenti a me dicono se non confermi il preventivo oggi nel giro di qualche ora il preventivo è scomparso o se vuoi lo stesso materiale ti chiedono il 5 il 10% in più perché è un mercato che viaggia a una velocità folle ripeto è un mercato che viaggia a una velocità folle per una serie di motivi che sono stati un po' legati al passato un po' legati alla contingenza che in questo momento non fanno bene totalmente nel mercato immobiliare poi è un momento di grande lavoro quindi fosse sempre così ma bisogna anche riuscire a capire che è un lavoro che dovrebbe essere diciamo più diluito nel tempo perché noi riusciamo a crescere e a strutturarci soltanto se abbiamo un respiro molto più ampio nel tempo diciamo in pochi mesi nessuno costruisce una mega azienda ecco serve molto più più spazio ingegnere grazie mille le chiedo un approfondimento proprio su questo tema lei parla di giustamente stabilizzare i bonus dare certezze agli operatori la possibilità che le imprese appunto possano programmare e programmarsi investire in un tempo diciamo congruo ma secondo lei le misure previste dall'ultima legge di stabilità quindi proroghe dei bonus le nuove condizioni le percentuali a suo parere rispondono a questa esigenza o c'è bisogno di nuove misure no servono assolutamente nuove misure perché diciamo l'ultima legge di stabilità ha prorogato fino a 2023 il meccanismo del 110 fino a 2024 tutti gli altri bonus ma servono sicuramente nuove misure ripeto se si vuole mantenere vivo un settore fondamentale come quello dell'edilizia in Italia c'è necessità per lo meno per il mercato privato che sia facile da contraltare credibile al mercato pubblico c'è necessità tassativamente di una stabilizzazione dei bonus una semplificazione un utilizzo dei bonus per raggiungere l'eccellenza un utilizzo dei bonus per creare quelle condizioni di sicurezza strutturale e di risparmio energetico per i quali sono nati ok perché i bonus nascono per risparmio energetico e per migliorare la sicurezza strutturale degli edifici quindi devono essere utilizzati per quello non per la qualunque sostanzialmente considerate che adesso abbiamo il 50% ristrutturazione generica e noi possiamo utilizzare lo sconto in fattura la cessione del credito anche per rifare l'intonaco della facciata non ha senso obiettivamente ecco e sarebbe molto meglio concentrare i bonus per risolvere i problemi reali o per incentivare un processo di riqualificazione dei centri storici il bonus facciate era stato scritto male ma aveva un'ottima base cioè andare a riqualificare le facciate dei centri storici che non possono essere riqualificate se non attraverso un intervento di rifacimento tinteggiatura restauro ma non si può andare a fare un cappotto su certi palazzi nei centri storici italiani quindi aveva un senso anche il bonus ha un senso anche il bonus facciate però evidentemente deve essere ben costruito e deve essere stabilizzato adesso il bonus facciate finisce nel 2022 di fatto è stata un'occasione persa per riqualificare tutte le facciate dei centri storici italiani che vedo dove è stato utilizzato il bonus facciate sono molto belle dove non è stato utilizzato il bonus facciate sono decadenti ma questo è un problema cioè era nato per incentivare la bellezza per migliorare la bellezza delle nostre città e invece è stato utilizzato male da soggetti truffaldini perché perché la legge era scritta male e non c'è stato sufficiente controllo questo è un altro tema il controllo il controllo deve esserci non deve essere soltanto un controllo documentale deve essere anche un controllo di merito deve essere un controllo che viene fatto e se lo Stato non è in grado di farlo perché ovviamente il mercato è enorme e la mole di documenti da controllare lo è altrettanto a mio avviso dovrebbe demandare a enti soggetti terzi anche privati l'onere del controllo succede in tanti casi che viene demandato a un soggetto terzo l'onere del controllo ovviamente qualificato verificato scelto in modo adeguato ma se non si riesce da soli a controllare tutta questa mole di dati pensate l'Enea che dovrebbe controllare tutti i super bonus tutti gli eco bonus e tutti i sisma bonus che sono stati fatti in Italia possono controllare su base documentare ma su base reale cioè andare in campo a fare dei controlli sui cantieri piuttosto che di merito sugli edifici non ci affranno mai ma neanche per la percentuale che si sono prefissate che non ricordo mai se è il 2% o il 5% cioè dovrebbero essere un plotone considerando che lo Stato non assume perché in realtà non ci sono piani di assunzioni massivi nello Stato quindi piuttosto si ne mandi ma controlliamo perché il controllo nel libero mercato è la miglior forma di tutela del mercato stesso e delle persone oneste che lavorano nel modo corretto però tornando alla domanda iniziale i bonus devono essere stabilizzati anche perché altrimenti se non vengono stabilizzati non si riuscirà mai a perseguire quell'obiettivo di transizione energetica di decarbonizzazione che mi sembra sia auspicato da tutti e sia strategicamente definito come fondamentale da tutti i politici e gli attori del settore però ripeto devono essere stabilizzati bisogna avere certezze per i prossimi 20 anni dobbiamo essere sicuri che ci siano 20 anni 10 anni insomma mi riallaccio per chiederti un contributo di approfondimento su quest'ultima tua affermazione poi passiamo alla lettura delle domande che hanno scritto che scriveranno in chat quindi è un'ultima domanda da parte mia ma non per importanza sempre a proposito del super bonus nel mondo della politica forse è stato visto come una leva un meccanismo efficace per il rilancio del mondo delle costruzioni un sostegno a una spinta decisiva alla ripresa ma l'aspetto che molte volte sottovalutiamo quello però appunto che tu citavi ora fondamentale è quello energetico soprattutto oggi con i problemi posti dalla dipendenza del gas ci rendiamo conto di quanto è importante avere differenti fonti di approvvigionamento e soprattutto la riduzione dei consumi dell'energia alcune ricerche dicono che il 40 50% del consumo energetico del nostro paese è proprio assorbito dagli edifici residenziali un altro dato ci dice che la percentuale di ristrutturazione prima del super bonus era circa o anche poco meno dell'1% mentre per riqualificare proprio il patrimonio immobiliare dovremmo invece accelerare avere almeno un 4-5% all'anno il super bonus chiaramente ci porta in questa direzione se pensiamo alle quantità di gas che consumiamo quindi 70 miliardi di metri cubi all'anno 39 dalla Russia usato per le abitazioni ma sappiamo benissimo che un'abitazione in classe G consuma 6 volte tanto una casa in classe A di pari dimensioni allora possiamo proprio stimare che questo beneficio per il nostro paese potrebbe essere proprio quello di ridurre in pochissimi anni grazie alla riqualificazione energetica degli edifici questa nostra dipendenza possiamo far sì che questa sia una ragione strategica tu hai citato tante volte la parola strategia cioè questa può diventare veramente la ragione strategica per finanziare in modo strutturale i bonus fiscali per il risparmio energetico come dicevi tu in un arco di dieci anni abbiamo l'esempio l'abbiamo letto in questi giorni di quello che è avvenuto nel settore dell'auto dove sono stati previsti un piano con dei programmi fino al 2030 allora sicuramente il diciamo i bonus hanno una ragione di essere nel supportare una visione strategica dello Stato in un determinato settore quindi gli incentivi in generale servono per guidare per aiutare lo Stato a guidare verso un determinato cambiamento l'eco bonus è nato nel 2006 primo anno di utilizzo 2007 c'era ministro dello sviluppo economico Bersani ed è nato proprio per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti bene male ha funzionato non ha funzionato ma quella era la ragione la ragione d'essere dei bonus a maggior ragione adesso dove dobbiamo andare verso una profonda decarbonizzazione e mi viene da dire anche una forte autonomia energetica perché hai citato un numero importante oltre 30 miliardi di metri cubi di gas prendiamo dalla Russia quindi vuol dire che non riusciamo ad essere autonomi lasciando perdere tutto quello che sta succedendo adesso in Russia ma in generale anche in condizioni ordinarie se un grande produttore come la Russia dice adesso ti aumento il costo del gas si crea immediatamente un problema per tutte le aziende che utilizzano per le case per le aziende che utilizzano il gas utilizzano l'energia in modo massimo quindi in realtà dov'è che si può lavorare io non posso far funzionare l'alto forno senza il gas ma posso far funzionare le case senza gas questo vuol dire che dove si può eliminare l'uso del gas o dei combustibili fossili secondo me bisogna perseguire questo obiettivo e ovviamente un incentivo al modo migliore per obbligare una profonda riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente per andare nella direzione di una elettrificazione del patrimonio immobiliare esistente ma perché elettrificazione perché l'energia elettrica può essere prodotta tramite fonte energetica rinnovabile mentre tutto quello che è un sistema a combustione richiede necessariamente un combustibile che normalmente un combustibile fossile altro aspetto a mio avviso fondamentale è quello legato al come dire al problema di come incentivare e come mettere d'accordo tutte le teste pensanti all'interno di un fabbricato in Italia noi abbiamo la struttura del condominio la struttura del condominio lo dico sempre perché mi stupisce risale al 1942 quindi è stata creata nel 1942 esattamente 80 anni fa è rimasta immutata solo noi in Italia abbiamo il condominio negli altri paesi la gestione degli edifici il fatto è che non c'è una proprietà immobiliare così polverizzata e questo aiuta tantissimo a fare sostituzione urbana perché di fatto un fondo immobiliare decide questo edificio lo demolisco lo ricostruisco lo faccio più bello più nuovo ci sono delle ragioni economiche per fare tutto questo e procedono in Italia il condominio evita questo ma bisogna mettere insieme le teste e i millesimi per poter deliberare negli altri stati dove c'è l'equivalente del condominio basta semplicemente una maggioranza semplice come se fosse un srl sostanzialmente in Italia no quindi gli incentivi servono anche per metterli tutti d'accordo che non è facile già con gli incentivi è difficile mettere d'accordo tutti i condomini pensate se non ci fossero gli incentivi quindi sicuramente l'utilizzo degli incentivi è strategico per guidare lo Stato ma ovviamente per guidare un paese e un settore verso una determinata direzione bisogna sapere dove lo si vuole portare tu hai citato il settore dell'auto il settore dell'auto è sempre stato strategico per tutti i governi per tutti gli stati dal 1920 in avanti e soprattutto tutti sono battuti per portare il settore dell'auto in una certa direzione quella di continua crescita quella di continua prosperità perché il settore dell'auto è un settore che dà lavoro a tantissimi crea delle filiere veramente importanti il settore dell'edilizia in Italia è esattamente più parabile al settore dell'auto però non c'è mai stata una visione strategica se non dopo la seconda guerra mondiale tale per cui si sia scelto di puntare in modo importante su questo settore rafforzandolo dandogli delle garanzie qualificando gli operatori dando credito agli operatori adesso non ho numeri ma la sensazione quando sento parlare gli attori del settore automotive e gli attori del settore building cioè edilizia è che se gli attori del settore edilizia avessero gli stessi debiti del settore automotive di quelli del settore automotive avrebbero già dovuto portare libri in tribunali da tempo mentre quelli dell'automotive continuano ad andare avanti con sovvenzioni incentivi leggi ad hoc e quant'altro quelli dell'edilizia sono lasciati molto spesso al loro destino non capisco perché obiettivamente lo posso capire in altri paesi non lo posso capire in Italia dove il settore edilizio è molto più strategico probabilmente di quello dell'automotive ma lo vediamo adesso cioè abbiamo fatto un più 6,3% nel 2021 per quanto riguarda il PIL ma dove lo abbiamo pescato se guardate i principali produttori automotive in Italia o fornitori non è che sono andati così bene quindi sono andati benino ma chi ha tirato è stato il settore dell'edilizia che ha subito un boom incredibile abbiamo fatto più 16 se non ricordo male sto andando a memoria ma è il settore dell'edilizia che ha tenuto sul PIL italiano ha fatto ripartire il PIL italiano in questo modo così importante non dimentichiamocelo Luca riesci a dare uno sguardo alle domande che hanno i colleghi operatori in chat così vediamo di dare delle risposte abbiamo visto molti problemi quindi allora dunque la prima è una considerazione il super bonus funziona o meglio funzionava l'incapacità tecnica della PA lascia presagire un mega flop al PNRR concordo con questa considerazione piuttosto più che altro concordo con questa considerazione riferita ai piccoli enti alle piccole strutture che non sono veramente in grado di uno farlo internamente e va bene due non hanno neanche la forza tecnica e politica di individuare dei soggetti esterni e uno cosa vuol dire ve lo dico in modo molto semplice il piccolo comune con 1500 anime e un geometra che vuole intercettare il fondo del del PNRR inizia a guardare quanti parenti al geometra che votano in quel comune fa un rapido conto e dice vabbè piuttosto che dare l'incarico per fare il progetto a una struttura che non vota qua che magari è anche più qualificata lo do al geometra di paese e spero che sia in grado di portarmelo a casa tanto cosa volete che sia e non funziona così adesso arriveranno 2,2 miliardi per la riqualificazione dei borghi italiani e per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili questi 2,2 miliardi sono affidati all'iniziativa degli uffici tecnici dei comuni sotto i 5000 abitanti io non so obiettivamente quanti verranno intercettati di questi 2,2 miliardi di fondi del PNRR e ricordiamoci che il PNRR funziona in questo modo io ti do un fondo ma se tu non sei in grado di presentare un progetto adeguato non me lo porto via e non te lo do più quindi bisogna fare molta attenzione rischiamo di perdere veramente una grossa occasione allora l'aumento di prezzi dei materiali e non solo ha fatto proliferare gli interventi di sisma bonus associato all'eco bonus spostando di fatto i massimali rendendo congruo economicamente l'intervento anche se praticamente inutile cosa ne pensa? allora diciamo che l'utilizzo combinato di eco bonus e sisma bonus aiuta tantissimo perché dà la possibilità di mettere a fattor comune le spese diciamo di cantierizzazione le opere provvisionali alcuni materiali ovviamente possono essere spostati alcuni interventi possono essere spostati o sull'eco o sul sisma il fatto che sia inutile diciamo è inutile se gestito male o meglio l'utilizzo di un intervento volto a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza strutturale se ben condotto è molto utile il vero problema per quello che ho potuto vedere è che molto spesso la parte eco viene fatta la parte sisma è fittizia nel senso si cerca di buttare dentro la riqualificazione di qualche mensola di qualche balcone si mette un po' di intorno carmato e si dice che funziona ho visto dei modelli strutturali dove si passava dalla classe di rischio sismico G alla classe di rischio sismico A no? quindi è possibile senza neanche un saggio senza neanche un'analisi dei documenti progettuali del tempo senza neanche una verifica un adeguato livello di conoscenza diciamo che molti sono bravi a far girare dei modelli di calcolo ma un po' meno a progettare ecco se fatto in questo modo confermo è inutile è soltanto un bel sistema per spostare allocare le spese in modo fantasioso ed evitare di incorrere nella tagliola del preziario del decreto mite e dei preziari dei tutti abbiamo crediti importanti incagliati da dicembre si sbloccherà tutto questo inizieranno a fallire imprese allora alcune hanno già iniziato a fallire giusto per darvi qualche brutta notizia adesso a maggio dovrebbe riaprire cassa depositi e prestiti che ha un bazooka importante si parla di 9 miliardi di euro di crediti che possono essere acquistati diciamo che molto dipende da cosa decideranno di fare le banche anche in funzione dei prossimi provvedimenti legislativi in consiglio dei ministri la settimana scorsa non venerdì scorso ma quello prima il 6 se non ricordo domani 6 di maggio è passato un emendamento tale per cui si dovrebbe anticipare la possibilità di cedere ai correntisti privati professionali i crediti quindi le banche acquistano poi cedono a un correntista purché sia una partita IVA sostanzialmente non è ancora passato in legge i crediti possono essere ceduti frazionati per anno sulla base della latanua se passasse il primo pezzo questo emendamento in legge e la possibilità di cedere frazionato già c'è chiaramente si avrebbe la possibilità di far ripartire un po' il meccanismo è chiaro che a mio avviso è necessario che Cassa Depositi e Prestiti e le grandi banche riaprano i rubinetti però le grandi banche sono quasi sature le grandissime so che hanno raggiunto il plafond le piccole hanno ancora qualcosina ma nei fatti se non si riaprono se non si riapre la possibilità di cedere ulteriormente quindi la banca compra e ricede ricede a chi? ad esempio soggetti che sono in credito IVA ci sono molti soggetti che sono in credito IVA comprano questi crediti compensano l'IVA e ovviamente recuperano liquidità però si deve poter fare in questo momento si può fare solo dopo la terza cessione ed è obiettivamente troppo tardi quindi mi auguro che chi è chi fa le leggi metta un minimo di buon senso perché alcune imprese sono già fallite mi auguro non falliscano in troppe anche perché considerate un aspetto il fallimento adesso non sono un aspetto di diritto fallimentare ma il fallimento di un'impresa non è ininfluente su un cantiere se arriva il curatore fallimentare immaginate che io sia il curatore fallimentare ho un contratto aperto ho un cantiere montato prima cosa che faccio è blocco e cerco di diciamo trovare qualcuno che subentri a cui cedere cerco di portare a casa il più possibile da questo cantiere aperto o cedendo il cantiere ma intanto tengo tutto bloccato i privati hanno firmato un contratto in cui si impegnavano cioè in cui chiedevano al fornitore di fare il lavoro da 110 ma il contratto è tale per cui se poi andiamo troppo oltre non è che il fornitore rescinde a costo zero dipende come è stato costruito il contratto ma difficilmente il fornitore rescinde a costo zero il contratto stesso quindi se ripartono i lavori a novembre 2023 e c'è troppo poco tempo per rientrare nel 110 il curatore fallimentare dice va bene io non ti addebito nulla ma tu adesso qualcosa me lo devi pagare quindi il fallimento delle imprese non è solo un problema delle imprese e dei lavoratori delle imprese stesse il fallimento delle imprese è anche un problema di chi ha i cantieri aperti quindi spero che non non accada e che facciano ripartire il meccanismo ma non è difficile si fa in fretta a far ripartire il meccanismo basta semplicemente riaprire la possibilità di cedere i crediti cessione del credito attualmente è molto critico ancora in corso di finizione come è possibile far ripartire la macchina con quale modifiche possibili beh ovviamente come si può far ripartire semplicemente dando la possibilità di cedere i correntisti con quali modifiche direi che il fatto che ci sia il visto di conformità e una verifica tecnica e fiscale sui crediti acquistati da parte delle banche aiuta tantissimo a prevenire delle truffe molte banche controllano soltanto i crediti da un punto di vista fiscale secondo me è sbagliato dovrebbero controllare anche da un punto di vista tecnico cioè le grandi società del tax illegal controllano che ci sia tutta la documentazione ma vi posso garantire che quando del credito è marcio si capisce dalla documentazione tecnica non dalla documentazione fiscale quindi imporre anche dei controlli tecnici ingegneristici architettonici su quelli che sono i crediti acquisiti sulla documentazione che viene passata quindi rendere più trasparente più sicuro il passaggio di credito e ovviamente una volta che il credito impalce una banca dare la possibilità alla banca di cederlo a chi vuole perché una volta che la banca ha controllato a questo punto un credito pulito e può essere tranquillamente ceduto a soggetti diversi non soltanto soggetti bancari perché se decidiamo soltanto soggetti bancari di fatto ad un certo punto esauriscono il plafond e il tutto si si blocca scarsità di mezzi materiali gli addetti dopo anni di profonda crisi si sono ridotti in modo esponenziale ora è difficile trovare addetti informati per gestire le criticità temporali non è difficile è quasi impossibile non soltanto per quanto riguarda le manovalanze ma anche per quanto riguarda le strutture tecniche purtroppo questo è un problema che è stato che c'era già prima ma è stato esaltato dalla ristrettezza temporale con cui si è data la possibilità di usufruire del super bonus cioè se si fosse dato maggior respiro alla manovra chiaramente si dava la possibilità alle imprese di formare all'università di diciamo far ripartire all'università agli istituti di far ripartire la produzione passatemi il termine di test pensanti e quindi ci sarebbero stati più operatori sul settore in questo momento immaginatevi uno affascinato un ragazzo affascinato dal mondo architettonico ingegneristico pittolo da tutti questi cantieri se si fosse iscritto all'università nel 2020 quando si laurea immaginiamo laurea breve nel 2023 non avrebbe più neanche tempo di esercitare il settore super bonus perché in tre anni è finito tutto questo non funziona se voi assumete un nuovo capocantiere non dico che sia le prime anni perché altrimenti non sarebbe un capocantiere ma immaginate di assumere una figura per farlo diventare capocantiere nel giro di tre cinque anni finito il percorso è finito anche il momento di massima richiesta non può funzionare le strategie vengono portate avanti soprattutto a livello di aziendale con un lasso di tempo molto più ampio le criticità e le perplessità emersi da parte di alcuni ministri del governo finanze in particolare cioè franco sul meccanismo super bonus secessione del credito è causata del tremuto incremento potenziale del debito a carico dello Stato no essenzialmente non è un problema di debito perché studi indipendenti dimostrano che non ci sarà un incremento del debito anzi si lavora molto sul denominatore quindi sul sul PIL e di conseguenza si migliora parecchio quello che è rapporto debito PIL o deficit PIL il loro problema è semplicemente quello di creare un meccanismo con una valuta parallela quindi far diventare i crediti d'imposto una valuta parallela e tra l'altro soggetta a tutti quelli che sono i rischi di truffa o di malversazioni o di elusioni quindi nei fatti franco che è un funzionario cioè di fatto ha una formazione non ha una formazione imprenditoriale ha una formazione molto ministeriale Daniele Franco o il ministro Franco quindi per lui è inconcepibile questa finanza allegra perché poi alla fine di questo si tratta no? Questa sistema finanziario molto molto facile però non conosce bene i meccanismi del mercato italiano cioè il problema del mercato italiano è che o metti sul piatto il credito d'imposta la cessione del credito del credito d'imposta oppure che poi si parla di credito d'imposta ma in realtà lo sconto in fattura o metti sul piatto lo sconto in fattura oppure rischi tantissimo di alimentare il mercato nero perché a questo punto soprattutto quando si ha a che fare con i privati le imprese insomma pur di starci dentro devono in qualche modo adeguarsi a un mercato che è veramente a forte rischio evasione togliete considerate peraltro che il diciamo il ministro Franco è anche preoccupato da questo forte incremento dei prezzi cioè non c'è economia di mercato ma non è un problema del 110 anziché mettere il 110 avessero messo il 90% avrebbero risolto il 95% lasciare un 5% a carico del condominio o del committente e sicuramente per quel 5% si sarebbero scannati secondo me le banche riapriranno a ritiro dei crediti che abbiamo e che avremo nei nostri cassetti fiscali quali condizioni dunque condizioni pessime nel senso che riapriranno però compreranno il 110 tra il 90 e il 94 con questo sono le voci che dicono quindi in un momento di forte spirale infattiva dove i prezzi sono aumentati i preziari dei non si sono adeguati i crediti fiscali saranno acquistati a un prezzo nettamente più basso del 100 addirittura si arriva fino al 90 a 90 su 110 quindi lavoro da 100 credito da 110 le banche me lo pagano 90 questo purtroppo non è una previsione negativa quanto sta emergendo da giugno a luglio in avanti succederà questo e nei fatti o uno si adatta oppure deve trovare degli altri canali per vendere e di fatto si appiatteranno i valori su quelli che erano i valori dei bonus dei fondi i fondi di investimento già compravano i crediti di imposta in tempi non sospetti ma a valore tra 85 e 88 su 110 come dice erano dei ladri sì ma adesso saranno in buona in buona compagnia le dunque ah ecco l'ultima cosa i crediti che ci sono in cassetti fiscali attenzione perché c'è il rischio che alcuni crediti in cassetti fiscali non siano acquistabili perché magari non sono stati vistati perché magari non sono stati controllati perché magari hanno dei problemi fate molta attenzione perché non è detto che solo perché è nel vostro cassetto fiscale che è un passaggio quasi automatico l'attimo stesso in cui è stato fatto lo sconto in fattura non è detto che questo credito sia acquistato quindi e se è acquistato sarà acquistato fortemente scontato ma questo è un altro tema più economico più finanziario le domande dovrebbero essere esaurite Simona sì ti dico veramente grazie Luca perché il tuo intervento oggi è stato importantissimo e assolutamente minuzioso dettagliato e poi invece anche di di strategia e sicuramente ci è stato d'aiuto per proseguire su questo lavoro va da sé che il tema del Superbonus non finisce qui stasera quindi il nostro saluto oggi è un arrivederci è un proseguo di un lavoro insieme ringrazio tutti voi per la partecipazione e vi auguro una buona serata grazie